Una tre giorni scintillante con incontri, presentazioni, workshop con autori e autrici di rilievo nazionale, abbiamo Diarri Gignardi, Jonathan Bazzi, domenica, saremo insieme all'attrice Sonia Bergamasco al Cinema d'Azeglio con un incontro dal libro all'audiolibro, quindi parleremo del libro, dell'evento, dell'orme editore, Bergamasco farà un reading su questo libro e poi proietteremo il film La scelta di Anna, Leone d'Oro a Venezia. Quindi degli incontri che, aperti a tutti, a ingresso gratuito e a cura di Scintille Book Club. Ecco, Scintille Book Club che è una realtà attiva ormai da quattro anni a Parma, dedicata per quanto riguarda il Club del Libro ad un pubblico fra i 25 e i 40 anni. In realtà poi le nostre attività come festival, workshop, incontri dal libro con gli autori, sono aperti a tutti. Cerchiamo di garantire il più possibile la gratuità. Quest'anno ci spostiamo su varie sedi, dal centro alla prima periferia. Abbiamo una collaborazione appunto con Teatro al Parco, Teatro Europa, Ratta Fiat, Cinema da Zeio, come diceva Camilla, ma saremo anche all'Ostello, la famiglia Prasana. All'interno dei borghi dell'Oltretorrente faremo una passeggiata letteraria. Insomma, cerchiamo di portare il mondo del libro fuori dai contenitori usuali. Le librerie sono con noi, Diari di Bordo, Mondadori Ghiaia e Ciurmo, con cui collaboriamo insieme ad altri da anni. Grazie.